Passiamo ai supermassimi e quindi dalla Accademia Piccolo Drago di Como, Davide Tonno Longoni! Signori, riduce da Fight Code, Luca The Rock Pantone! Luca The Rock Pantone! Accademia Muscara! Signori, a voi! Viva! 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 Fight! Non c'è bravo Luca, non c'è bravo, bravo! Vai! Vai! Ma chi lo canto? Guarda! Ehi, bravo! Vai! La coscia, la coscia! Ehi, bravo! Ehi, bene! Bravo! Un minuto, Tonno! Batta Luca! Batta Luca! Batta Luca! Batta Luca! Ehi, bravo Tonno! Non ti va bene! Batta Luca, non aspettare! Batta Luca! Eccolo qua! Vai, Victor! Debido! Sorpre! Pirma là ci gu менееur proyecto. Dai Luca, ui. Vai, nu Sue! Ui, nu, la! Bora tu! Escolta Luca! Sau, no Ra mug, topo! Tava li barrels? Vai nel ginocchio! Vai! Non l'aspettare! – Vai l' UN Cons og... – Non l'aspettare! – Ma che le seguite? – L' gingiplo del servito? – Nochu! Vai! – Vai, vai! Buon appetito! Fai! Seconda! Oh sì! Ancora! Non ti fare mettere in fricci! Non ti fare mettere in fricci! Vai Luca! Vai! Scusa! Sono andato all'alena! Dai! Do! Fai! Adesso stai! Dai! 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 Bravo! Bravo! Fai! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.